Siamo alloggiati a 2012 Sport Club per una novità in caso Olympus. Stavolta non si tratta di nuovi giocatori, di nuovi acquisti, perlomeno dal punto di vista tecnico, ma un acquisto dal punto di vista dirigenziale. Si tratta di Carlo Cittati, che entra agli effetti nell'ambito dirigenziale con il ruolo di vicepresidente della società. A fare gli onori di casa, Andrea Verde, presidente dell'Olympus. Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi è una giornata particolarmente importante, oggi festeggiamo i 15 anni della nostra vita. Il 9 settembre era il giorno in cui siamo nati nel 1999, lo festeggiamo un po' in ritardo per motivi puramente organizzativi. A differenza dell'ultima volta che abbiamo parlato insieme, oggi possiamo parlare effettivamente di essere al primo anno di nazionale per quanto riguarda la prima squadra maschile, visto che eravamo rimasti in sospeso con gli ok dei ripescaggi. Quindi per noi è motivo di vanto perché arrivare a 15 anni con coerenza, continuità e professionalità insomma per noi è particolarmente importante, soprattutto perché essere 15 anni in questa disciplina, in questo momento storico complicato vuol dire comunque che abbiamo costruito qualcosa di importante. Oggi cominciamo quello che è il percorso di questa società anche a livello societario, cioè cerchiamo di crescere e dare maggior spessore a questa società. Siamo onorati quindi di aver convinto l'avvocato Carlo Cittati a far parte di questa famiglia e da oggi cominceremo quindi a lavorare anche a livello di rappresentanza con maggior spessore. Io ti faccio il benvenuto e ti lascio la parola per presentare anche uno dei migliori acquisti di quest'anno, non sul campo ma anche fuori. Innanzitutto grazie a tutti, grazie ad Andrea Verde, grazie a Franco Casilli di avermi voluto qui. Cercherò di dare il mio contributo per quella che è la mia competenza, cioè nella gestione e nell'amministrazione della società quotidiana. L'obiettivo di questa società è quello di crescere quotidianamente, mensilmente e annualmente. A me è stato dato l'onere di riuscire a far crescere dal punto di vista gestionale questa società, ovviamente augurandosi che la nostra crescita dal punto di vista societario corrisponda poi alla crescita sul campo. Mi metterò a disposizione, sono onoratissimo del compito che mi è stato affidato da parte della proprietà. Un grazie particolare va ad una persona che conosco da molti anni e che mi ha avvicinato all'Olympus, che è Antonio Jovine, un allenatore importante per questa società a livello giovanile. E' stato lui che in qualche modo ha favorito l'incontro tra me e la società. C'è molto da lavorare, ci metteremo al lavoro sin da domani mattina nella convinzione che partiamo da una base eccellente. Cercheremo di far sì che questa società sia finanziariamente sempre più forte. In questo iniziamo ora un percorso di autofinanziamento, cioè di riperimento di risorse finanziarie e sfruttando brand della società e nella convinzione che questa sia per il calcetto che per il calcio futuro sia la strada da percorrere. Ho la fortuna di partire già da una struttura societaria molto forte e molto solita che ovviamente mi mette nelle migliori condizioni possibili di poter lavorare. Grazie della fiducia che mi è stata accordata. Ecco qui, anche io faccio il benvenuto a Carlo. Dopo una trattativa durata praticamente un'estate intera, insomma, finalmente abbiamo Carlo alla nostra corte e si è preso, già si è addossato anche da solo tutti gli oneri di un'associazione sportiva dilettantistica che ormai è giunta al suo quindicesimo anno, ma soprattutto ha preso un posto che è rimasto tra virgolette vacante per qualche anno, volutamente, insomma, non abbiamo mai da qualche anno a questa parte dato la carica di vicepresidente, quindi ti do ulteriori oneri perché, insomma, assolutamente, basta così, grazie. Io faccio l'imbocca al lupo a Carlo e gli do il benvenuto. Sono molto felice del suo ingresso perché penso che all'Olympus era fondamentale una figura come la sua e penso che possa far accrescere in modo esponenziale il brand Olympus e credo che sia anche un ottimo viatico, un bel portafortuna che oggi, proprio che festeggiamo il quindicesimo anno, ci sia l'inserimento di una persona come lui, di altissimo profilo umano e anche ottimo conoscitore sicuramente a livello finanziario, ma non aspetta a me dirlo poi, ma anche a livello, può dare molto anche nel calcio a 5 e a livello di campo, la sua esperienza. Quindi un in bocca al lupo e benvenuto avvocato. Facciamo domande? Salve, buonasera, Frazzini di Fanner, per Giorgio Frazzini. La domanda che le faccio è riguardante, so che questa è la sua prima esperienza per quanto riguarda il calcio al 5, citava prima il suo rapporto con l'allenatore Antonio Iovine che poi l'ha spinta a venire qui all'Olympus. Siccome lei ha fatto riferimento prima alla programmazione, che si parte da base solidi, la programmazione è importante soprattutto per il futuro, quindi per i giovani. Cosa pensa dell'Under 21 che quest'anno diventerà nazionale e che è uno degli elementi di spicco della società? Grazie per la domanda. Ovviamente l'Under 21 nazionale che la società è riuscita a costituire quest'anno è una squadra di assoluto livello e soprattutto che rappresenta quella che è la filosofia della società, cioè quella di creare attraverso l'Under 21 nazionale è una fucina di giocatori che siano interscambiabili tra l'Under 21 nazionale e la prima squadra. Questa è una strada assolutamente fondamentale per quella che è la struttura del calcio al 5, mi permetto di dire, venendo da esperienze del calcio professionistico, anche per il calcio professionistico nazionale. Sicuramente la rafforzeremo, continueremo a perseguirla, compatibilmente anche con le nostre capacità manageriali e cercheremo anche magari di rafforzarla sotto l'aspetto della internazionalizzazione, quindi creare anche magari delle fonti di scambio con realtà internazionali che ci possano consentire di avere un ricambio tra l'Under 21 nazionale e prima squadra, sempre ovviamente andando a preveggiare l'aspetto tecnico e gestionale. Anche perché vorrei sottolineare che noi comunque abbiamo un progetto importante perché abbiamo anche un Under 21 regionale, quindi ci creiamo una base importante anche sull'Under 21 che ci permette di far crescere i giocatori con calma laddove ci sia un gap di differenza nella categoria e come ha detto l'avvocato, chiaramente abbiamo anche questa idea ma comunque abbiamo già fatto qualcosa a livello internazionale partecipando a dei tornei sia internazionali e nazionali, quindi ci stiamo muovendo anche da un punto di vista di immagine giovanile e questo per noi è molto importante. Faccio una domanda io. No, giusto una curiosità Renato, ma anche a voi volevo chiedere da quant'è che mancava il ruolo di vicepresidente e chi era prima? Il ruolo non mancava perché era obbligatorio metterlo sull'atto costitutivo, però diciamo che in questo momento non avevamo nessuno che comunque ci poteva dare veramente un qualcosa in più, nel senso ci sono delle figure che nel momento in cui vengono assegnate devono anche essere importanti per l'associazione, in questo caso invece abbiamo la possibilità di muoverci veramente a livello societario in maniera molto importante. Quanto è importante una società che punta molto sui giovani, sempre di più giorno dopo giorno, avere un percorso a tappe già precostituito perché l'Olympus è già strutturata per questo? Questo è fondamentale, cioè lavorare dove esiste un'esperienza. Ovviamente può solo che favorire il lavoro di tutti i dirigenti. Esiste una proprietà che ha una grande esperienza in questo settore, che da tanti anni con molto coraggio si confronta con questa dimensione, che quest'anno ha realizzato sia a livello di prima squadra che a livello di squadre giovanili, delle squadre estremamente competitive. Questo deve essere per noi, per me personalmente, che entro in questo momento un elemento di motivazione per migliorare e per cercare di portare questa società ai livelli più alti possibili. Sapendo che alla base ci deve essere sempre grande professionalità e soprattutto grande lealtà nei rapporti umani, perché quando si ha la responsabilità digestive degli spogliatoi, che sono dei gruppi di persone, la lealtà e la linearità di comportamento sono condizioni di procedibilità per poter lavorare.